Eccoci su Sicilia 24, ben ritrovati, apriamo questa edizione di Spazio Notizia parlando di un grave fatto di cronaca avvenuto a Palermo, un uomo di 45 anni, Giuseppe Incontrera, è stato ucciso stamane con alcuni colpi di pistola nella zona tra via Imperatrice Costanza e via dei Cipressi a Palermo, portato in ospedale al pronto soccorso del civico e morto poco dopo. Le indagini sono condotte dai carabinieri, sul luogo della sparatoria sono stati trovati Bossoli calibro 22. Si sono registrati momenti di grande tensione al pronto soccorso dove si sono radunate una cinquantina di persone. Gli agenti di polizia del reparto mobile stanno presidiando il nosocomio palermitano. I sanitari del 118, arrivati nella zona dove l'uomo è stato ferito a morte, sono stati a loro volta aggrediti. La vittima avrebbe precedenti per trovo. Ovviamente queste sono le primissime notizie in nostro possesso, se ci saranno degli sviluppi e degli aggiornamenti nel corso della giornata ve li daremo chiaramente con le nostre nuove edizioni di Spazio Notizia. Ancora a cronaca, ci spostiamo però nell'Agrigentino, per la precisione a Favara, dove i carabinieri della locale tenenza hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Agrigento un 33enne per l'ipotesi di reato di atti persecutori. L'uomo infatti avrebbe ripetutamente molestato e perseguitato un 28enne parrucchiere agrigentino, rivolgendogli anche continue espressioni denigratorie. Esasperato dalle continue molestie, a quanto pare senza un valido motivo, il parrucchiere si è rivolto ai carabinieri, i quali hanno subito avviato un'attività investigativa per cercare di fare luce sulla questione. Ed ora invece ci spostiamo nella messinese, auto incendiate, estorsione, spaccio di droga e molestie, minacce, sono finite in manette sei persone a forza da gron. Nel corso della notte i carabinieri del comando provinciale di Messina hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della procura della Repubblica di Messina nei confronti di sei persone per le quali sono emersi gravi indizi di colpevolezza per i delitti di danneggiamento seguito da incendio, atti persecutori, tentata estorsione, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa è stata avviata dai carabinieri della compagnia di Taormina a seguito dell'incendio dell'autovettura del comandante della stazione carabinieri di forza d'agro verificatosi nella notte del 31 marzo 2021. La visione delle immagini di videosorveglianza aveva da subito consentito di stabilire l'origine dolosa dell'incendio per mano di un individuo con il volto travisato. La ricostruzione della via di fuga percorsa dall'autore aveva consentito nell'immediatezza di individuare l'abitazione dove il reo aveva abbandonato gli indumenti e la maschera utilizzata per portare a compimento l'azione delittuosa e di porli sotto sequestro per le successive analisi di laboratorio nonché di raccogliere le dichiarazioni da parte di un testimone che aveva notato l'uomo darsi alla fuga. I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di stabilire che l'azione delittuosa era stata condotta da tre pregiudicati del luogo che in passato erano stati arrestati da personale della stazione di forza d'agro per alcuni episodi di incendio di diverse autovetture. Il prosieguo dell'attività investigativa ha permesso di accertare la responsabilità degli indagati anche per altri reati tra cui estorsione, spaccio di droga, minacce, molestie e intimidazioni. Al termine delle formalità di rito due degli odierni indagati sono stati portati presso la casa circondariale di Messina Gazzi mentre i restanti quattro sono stati ristretti ai domiciliari. Notizia da Rosolini, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 34enne per avere più volte violato la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali che lo obbligava a permanere presso la propria abitazione dalle ore 3 alle ore 8 del mattino. L'arrestato, che stava scontando pene alternative alla detenzione per frode informatica e altri reati, su disposizione dell'autorità giudiziaria a Retusea, a seguito delle numerose violazioni degli obblighi imposti e documentate dai militari della stazione di Rosolini e della compagnia di Noto, è stato associato alla casa circondariale di Siracusa Cavadonna. A Catania invece un uomo era evaso dagli arresti domiciliari, ha provato a sfuggire a un controllo dei carabinieri ma non c'è riuscito, è stato ovviamente arrestato. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato nella fragranza di reato un catanese 29enne gravemente indiziato di evasione e resistenza pubblico ufficiale. Nella scorsa nottata l'attenzione di un equipaggio del nucleo radiomobile in transito lungo il corso ammedeo Duca d'Aosta è stata tratta dalla presenza di due persone all'interno di una lancia Ypsilon parcheggiata in maniera sospetta a margine della carreggiata. L'immediato tentativo dei militari di procedere al controllo dei due individui è stato reso vano dalla reazione del conducente di quel veicolo che dopo aver acceso il motore dell'autovettura si è lanciato in una rocambolesca fuga lungo protrattasi lungo le vie cittadine sino al parcheggio di un popoloso condominio del quartiere Librino ove i due scesi dall'autovettura hanno rapidamente guadagnato le scale tentando di far definitivamente perdere le loro tracce. Purtroppo per loro i carabinieri hanno notato l'assenza delle chiavi dell'autovettura dal cruscotto nonché l'assenza di manomissioni nel blocco elettrico e del bloccasterzo particolari questi che li hanno ragionevolmente indotti a pensare che uno dei fuggiaschi si identificasse proprio nel proprietario dell'auto ancor più in considerazione del fatto che quest'ultimo abita proprio in quel civico e che è sottoposto alla detenzione domiciliare. Il successivo controllo all'interno dell'abitazione del proprietario dell'auto presente in casa ha consentito ai militari di riconoscerlo in uno dei due fuggiaschi, circostanza tra l'altro immediatamente ammessa dallo stesso interessato. L'uomo è stato nuovamente posto ai domiciliari dove tuttora permane su disposizione dell'autorità giudiziaria all'esito del giudizio di convalida ma stavolta con l'applicazione del braccialetto elettronico. Ed ora ci spostiamo a Petrosino dove ieri un giovane morto annegato nelle acque di Petrosino i soccorritori hanno recuperato il corpo in mare tra la zona del Biscione e Sibiliana. La vittima è un 22enne di origine tunisina che nel tardo pomeriggio di ieri si era tuffato per un bagno. Poco dopo però alcuni presenti hanno notato il corpo galleggiare. A causare il decesso del ragazzo potrebbe essere stato un malore. Notizia invece da Bagheria dove un commerciante è stato multato poiché è sorpreso a vendere del tonno non tracciabile. Vediamo il servizio. I finanzieri della compagnia di Bagheria hanno sequestrato 4 tonnellate e mezza di tonno rosso in un deposito di pesce di una pescheria di Bagheria. I militari hanno individuato alcuni furgoni che arrivavano da Porticello nel comune di Santa Flavia che di notte procedevano a velocità verso il deposito. Durante controlli nel locale, completo di celle frigorifere, le fiamme gialle hanno trovato 18 esemplari di tonno rosso pinna blu senza i documenti che ne accertavano la tracciabilità e davano la possibilità di commercializzare il pesce. La pesca del tonno rosso pinna blu è infatti sottoposta a rigide regole di tracciamento finalizzate da un lato a impedire che vengano immessi sul mercato prodotti ittici non sicuri per la salute dei consumatori e dall'altro a garantire la sopravvivenza di questa specie, ormai a rischio estinzione a causa della pesca intensiva che alimenta un fiorente mercato nero. Il proprietario della pescheria è stato segnalato alla Capitaneria di Porto e rischia sanzioni che vanno da 2.000 a 12.000 euro. E torniamo a occuparci dell'emergenza incendi. Quella di ieri è stata un'altra giornata infernale. Nella Catanese sono stati ben 74 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco soltanto in provincia di Catania. I roghi hanno interessato le zone di Acireale, Catania, Belpasso, Bronte, Palagonia e Gran Michele. Soprattutto a Gran Michele è divampato un vasto incendio di vegetazione incontrada a Canale, incendio che ha richiesto l'evacuazione precauzionale di abitazioni isolate vicine al fronte del fuoco. Una bottiglia di GPL che si trovava tra la vegetazione è esplosa. Le fiamme hanno coinvolto alcuni mezzi in sosta. Impegnate squadre a terra del distaccamento volontari di Vizzini in supporto alla squadra boschiva di Catania. Sul posto sono stati inviati anche due elicotteri forestale e un Canadair. Le fiamme hanno interessato anche le linee elettriche. Dunque davvero, come detto in apertura, una giornata infernale. In questo caso a Gran Michele, ma in generale in tante zone della provincia di Catania. Da un'emergenza all'altra adesso parliamo di Covid. Andiamo a vedere il bollettino settimanale della regione siciliana. Il dato che emerge è quello di una continua crescita delle nuove infezioni in Sicilia. Vediamo il servizio. Nella settimana dal 20 al 26 giugno, in linea con la tendenza nel territorio nazionale, c'è stato un forte incremento dei nuovi casi di Covid in Sicilia con una incidenza pari al più 47,85%. Il tasso di nuovi positivi più elevati rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Palermo, Ragusa e Siracusa. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 45 e i 59 anni e tra i 60 e i 69 anni. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in aumento. Lo dice il bollettino settimanale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della regione siciliana. I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento al periodo dal 22 al 28 giugno. Nel target 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,36%, mentre il 23,54%, pari a 72.560 bambini, risulta avere completato il ciclo vaccinale. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,59% del target regionale, ha completato il ciclo primario l'89,30%. Per quanto riguarda la terza dose, i vaccinati con booster sono 2.737.260, pari al 72,83% degli aventi diritto, mentre sono ancora 1.037.585 i soggetti che possono effettuarla ma non l'hanno ancora fatta. Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose per gli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile è stata estesa la somministrazione della quarta dose agli over 80, ospiti dei presidi residenziali per anziani ai soggetti tra 60 e 80 anni affetti da condizioni di particolare fragilità, che abbiano ricevuto la terza dose da oltre 120 giorni senza intercorsa infezione da Covid. Dal 1 marzo sono state effettuate complessivamente 34.319 somministrazioni di quarta dose, di cui 24.811 ad over 80. Cambiamo decisamente argomento. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, ha partecipato a Trapani alle celebrazioni per il trentesimo anniversario di gestione dello scalo internazionale Vincenzo Florio da parte di Ayrgest. Sentiamo le parole del governatore siciliano. Io ricordo che quando sono stato eletto presidente della regione si era persa ogni speranza. Noi abbiamo lavorato intensamente come governo, in collaborazione con il Parlamento, abbiamo messo a disposizione decine di milioni di euro, abbiamo rinnovato la governance con un presidente e un consiglio di amministrazione competenti ed efficienti. Ho incontrato più volte l'amministratore delegato di Ryanair per concordare un piano di azione. Oggi l'aeroporto di Birgi è tornato ad essere uno straordinario motore di crescita del territorio e al tempo stesso diventa attrattore di capitali. La mia speranza, come sapete, è quella che si possa arrivare in Sicilia ad un unico sistema di gestione. Spero che intanto il sistema aeroportuale diventi della Sicilia occidentale come lo è diventato della Sicilia orientale e che poi si possa aggregare anche Pantelleria e Lampedusa. Ci vorrà del tempo, ma anche su questo fronte sono ottimista. E con questa notizia ci fermiamo, chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia ma ovviamente ci ritroviamo più tardi sempre su Sicilia 24. A dopo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS